Una mattinata di studi e approfondimento su un tema quanto mai attuale e in costante crescita, soprattutto negli adolescenti. Succede al campus Iusve Verona in Viaregast e San Zeno, dove nell'ambito del corso di psicologia clinica si è parlato dei disturbi alimentari dovuti alle abbuffate, non solo di cibo, ma anche virtuali, nei quali incorrono sempre più giovani. Parliamo dell'aspetto patologico dell'abbuffarsi e con la Iusve abbiamo pensato di fare un convegno dal titolo dal binge eating al binge watching per far emergere all'attenzione di docenti e di alcuni ragazzi come siano possibili le abbuffate sia nel mondo reale attraverso il cibo, ma anche nel mondo virtuale con l'utilizzo stremato dei social oppure la visione proprio compulsiva di serie televisive. Binge watching cosa sta a significare? Allora è la buffata, dobbiamo parlare di binge eating che è la buffata di cibo. Binge watching è la buffata di serie tv, gaming, social, dove l'homo sapiens diventa solo homo videns, guarda solo, si abbuffa di ciò che vede e poi diventa binge racing, cioè una gara per vedere sempre di più, per visualizzare sempre di più, per essere visualizzati e per finire la serie tv. Il binge eating e il binge watching sono spesso due patologie correlate. Riconoscere il problema è il primo passo verso il trattamento del soggetto coinvolto che necessita di una presa in carico a 360 gradi. Fare rete tra scuola, famiglia e figure professionali è fondamentale per la prevenzione e la cura. Beh, adesso fortunatamente abbiamo sviluppato dei trattamenti psicologici efficaci che hanno dimostrato l'efficacia anche in studi clinici controllati. Per gli adolescenti ci sono due approcci, uno più tradizionale che è il trattamento basato sulla famiglia, dove l'adolescente è aiutato dai familiari ad affrontare il problema alimentare con il supporto dei genitori. Una cosa che tolgo anche invece l'occasione di dire oggi è che qui a Verona è stato sviluppato un nuovo trattamento a Villagarda che invece aiuta l'adolescente a riconoscere il problema che è una delle cose più complicate, soprattutto all'inizio, perché il controllo alimentare ha una funzione psicologica positiva e a diventare attivo nel processo di cura. Quali campanelli d'allarme per riconoscere nel ragazzo, nel giovane questi disturbi? Allora, ad esempio per il binge eating abbiamo un aumento ponderale di peso seguito da sensi di colpa e diete forzate e lo vediamo poi da quello che possono postare i ragazzi o da quello che condividono con i loro coetanei.